amici miei benvenuti oppure bentornati come spero su questo canale dopo aver fatto la classifica di tutti i film della saga di nightmare dopo la classifica di tutti i film della saga di venerdì 13 oggi per halloween di quale altro franchise horror avrei potuto parlare se non quello con michael myers come protagonista sto registrando il video con circa una settimana di anticipo perché adesso mentre vi parlo in realtà mi trovo al livorno al fipili horror festival ma arriveranno senz'altro video da lì quindi come al solito vi chiedo fatemi sapere nella sezione commenti se siete d'accordo con me oppure se la vostra classifica è diversa scrivetemela così ci confrontiamo altra doverosa premessa terrò in considerazione tutti e 13 i film quindi anche halloween 3 seppur non fosse presente michael myers quindi anche il remake e il suo seguito e poi quel che ha fatto david gordon green direi che possiamo andare sicuramente chi ha visto la mia retrospettiva sulla saga di qualche anno fa nel mio format parliamo di horror che è tuttora reperibile sul canale saprà quanto la maggior parte dei titoli del franchise mi abbiano deluso però ho deciso lo stesso di buttare giù questa classifica per divertirmi e per vedere se a distanza di anni il mio pensiero è cambiato oppure no in ultima posizione al tredicesimo posto ho inserito halloween 4 il ritorno di michael myers film del 1988 diretto da tal dwight little che col senno di poi sembra più diretto da stewart little perché il topolino senz'altro avrebbe fatto meglio è un film sbagliato sotto tutti i punti di vista vogliamo parlare della trama lori strode morta off screen ha una figlia jamie lloyd interpretata da daniel harris ora parleremo successivamente degli sviluppi di quel personaggio ma il film a livello registico è talmente buttato via sembra di vedere una brutta serie tv con delle sequenze ai limiti del ridicolo ma qua michael myers è un assassino un giocoliere prende le sue vittime le lancia nel cielo sopra i cavi elettrici ma sembrava di vedere non lo so un ubriacone del circo orfei o perché no uno all'oktoberfest che si è nascosto quattro birre nella maschera dal momento in cui anche la maschera è orripilante non si può guardare nella locandina la vediamo in un modo nel film pare la versione comprata su wish è talmente tutto brutto è talmente tutto raffazzonato che dopo i primi test screening decisero di chiamare un altro regista per dirigere delle scene più horror perché lo consideravano un film leggerissimo e sapete chi hanno chiamato per amalgamare di altrettante scene brutte questo quarto capitolo vediamo se capite chi è questo regista tal john carl bukler sì lo stesso che aveva curato gli effetti speciali di tanti film horror fra cui anche il bellissimo nightmare 4 il non risveglio che è uscito lo stesso anno nell'88 vi rendete conto la differenza abissale per di più era anche regista di venerdì 13 parte 7 il sangue scorre di nuovo che in confronto a halloween 4 e quarto potere halloween 4 boh lascia il tempo che trova non è un film brutto è proprio un film orribile che non dà dignità al personaggio che non riesce mai a spaventare ogni scena a livello registico è proprio mal realizzata sembra diretta non da un mestierante ma da qualcuno che in vita propria non ha mai tenuto in mano una macchina da presa quindi non so qual è il vostro pensiero al riguardo io non posso che indirizzarlo in ultima postazione e tenerlo lì per sempre perché halloween 4 il ritorno di michael myers è anche il ritorno del mio nervosismo ogni volta che ci penso se vi dicessi che esiste un halloween con michael myers nella casa del grande fratello ci credereste sì perché senz'altro anche voi l'avrete visto e sto parlando di halloween la resurrezione che inserisco al dodicesimo posto film del 2002 diretto da rick rosenthal allora rick rosenthal con halloween il signore della morte aveva fatto anche un buon film un discreto seguito del primo capolavoro di john carpenter che senz'altro salvato con halloween la resurrezione io non so cosa gli sia preso magari lo han pagato benissimo però ogni volta che ripenso a michael myers nella sua casa dove ha ucciso sua sorella con le telecamere tante persone che là dentro vivono all'interno di un reality show cioè dico paolo show show vattene via cioè vado via e lascio la televisione accesa perché sicuramente quel che ho attorno è più interessante di un film dove non manca la violenza ci sono anche delle scene esplicite ma non mi basta c'è ormai michael myers è usato come se fosse prezzemolo la mascotte di gardaland ma allora fatemi a michael myers alla prova del cuoco michael myers a ciao darwin michael myers avanti un altro michael myers a affari tuoi 20 la basilicata ho vinto 500 mila euro perché veramente io è meglio riderci su che pensare ad un film sbagliato un film che poi io allora già questa cosa assurda del talent del reality ma con halloween vent'anni dopo altro film di cui poi parleremo sembrava che la saga fosse definitivamente chiusa perché lori strode decapita decapita michael decapita l'essere che da anni la tormenta per poi scoprire siccome lo volevano riportare in vita che sotto la maschera di michael myers in realtà ci fosse un poliziotto perché alla fine di halloween vent'anni dopo noi bisogna immaginarsi che michael myers si è spogliato mentre da fuori gli sparavano lo cercavano quindi si è rimasto nudo per un attimo io mi immagino la scena cosa ci avrà a mezzo alle gambe michael myers un baobab non lo so insomma si è spogliato si è messo i vestiti di questo povero infermiere scusatemi corre in aiuto wikipedia non era un poliziotto ma cambia poco e poi è uscito fuori travestendo l'infermiere con la maschera che poco prima aveva addosso io veramente non ci voglio credere e per di più mi chiedo se questa scena l'avessero resa esplicita sarebbe stata una parodia è meglio immaginarsela perché è ai limiti del credibile e poi uno spettatore può domandarsi ma perché questo povero infermiere travestito da michael myers non ha mai detto guarda non sono io non farmi del male non sono io il film ti giustifica questa cosa dicendoti che michael myers comunque nel finale di halloween vent'anni dopo l'aveva ferito alle corde vocali insomma questo povero infermiere non poteva parlare però almeno muoviti dici fai qualcosa ma proprio è una cosa oggi la chiameremo retcon no pensata dopo prima si voleva far morire michael myers non c'era alcun pensiero su un possibile ritorno ma sapete battiamo ferro finché è caldo non tiziano poverino quindi lo vuoi far tornare in scena e ti inventi un finale così stupido ma che tra l'altro rovina anche l'epilogo di vent'anni dopo se qualcuno ha apprezzato halloween vent'anni dopo con il prologo della resurrezione rovini anche quel che di buono c'è stato precedentemente vogliamo parlare della morte di lori strode dopo dieci minuti che già finisce lì poi l'interesse del pubblico nei confronti del film per dar spazio al grande fratello io non lo so ma secondo me non lo sapeva neanche michael ed infatti poverino è lì vittima di un sistema hollywoodiano pronto a spulciarlo pronto a vivisezionarlo per guadagnarci il più possibile quel che nasce fuori è la resurrezione anche del nostro nervosismo che aleggiava dentro di noi che forse con halloween vent'anni dopo si era un po' placato e poi con la resurrezione scoppia in boati clamorosi all'undicesimo posto voglio mettere halloween 5 la vendetta di michael myers film del 1989 diretto da tal dominic ottenin girard un film che sicuramente non arriva ad essere brutto come la resurrezione o come il ritorno di michael myers ma qua l'unico personaggio che mi fa pena è il povero dottor lumis che è rimasto lì magari lo avevano pagato bene ma è talmente inutile è così buttata via anche la sottotrama che dovrebbe parlare dell'intreccio fra lui e michael l'azione l'horror la violenza è proprio scialba è un film che sembra un fan movie che si può trovare su youtube e che ha diretto il fan sfegatato della saga e quindi puoi anche pensare dai si vede che è un appassionato ma quando questo film lo vuoi considerare un capitolo della saga ma la vendetta di michael myers cioè è la vendetta questa del cattivo cinema è la vendetta dell'horror che non è horror tra l'altro in italia è arrivato doppiato anni e anni e anni dopo prima su infinity e poi dopo è uscito quel cofanettone blu-ray bellissimo che vi ho mostrato durante i periodi in cui facevo la retrospettiva torna anche qua daniel harris continuano le sottotrame relative a jamie lloyd anche se per arrivare alla cigliogina sulla torta dovremmo attendere halloween 6 quindi un altro di quei titoli che avrebbe dovuto dar fine al franchise ma quando mai ci sono dei personaggi che sembrano usciti da una puntata di staglie olio ci sono dei personaggi ai limiti del dicolo mi pare fosse nel quinto allora era il quinto che mostrava i due poliziotti che sembravano pinko panco e pancopinco veramente sembravano usciti da scuola di polizia mi pare proprio fosse la vendetta di michael myers ma anche fosse stato il quarto per dire cambia poco perché sono pellicole interscambiabili per quanto mal riuscite per quanto brutte io non so come john carpenter riusciva a fidarsi pronto pronto ma vaffanculo team scusatemi è che qua con queste telefonate spam truffa cercherebbero di venderti anche michael myers tra un po ti viene un po di nervosismo poi soprattutto mentre parli di un quinto capitolo che lascia il tempo che trova ricordiamo che questo film presenta l'uomo vestito di nero l'uomo vestito di nero l'uomo vestito di nero cosa mi interessa dell'uomo vestito di nero che andrà a rovinare tutta la mitologia del personaggio perché lo scoprirete tra poco per avere le risposte bisogna attendere il 1995 con l'orribile halloween 6 la maledizione di michael myers diretto da joe chapelle e voi direte perché se lo consideri così brutto non l'hai messo magari in ultima posizione ve lo spiego subito nonostante abbia una trama da strapparsi i capelli e incollarseli sulla schiena restando calvi a livello di intrattenimento forse è quello più piacevole da seguire forse quello con le scene violente più interessanti certo la narrazione la trama è tutto un però perlomeno se devo scegliere di rivedere un film fra il quarto il quinto e il sesto ecco quest'ultimo è quello che meno mi irrita sotto certi punti di vista se invece vogliamo parlare della trama qua io vorrei subito iniziare con la ciliegina sulla torta marcia allora come fare a dirglielo perché anzi voglio prendere una fresca non temere di aprir bocca ma non temere anche di dire certe cose ho paura che allora è che ore sono le 15 06 allora ci devo mettere almeno michael myers i senti battono anche fuori muratori perché proprio non vogliono che lo dica ma non mi importa se si sente non mi importa perché questi sono i colpi che ho subito io ricevuto nel cuore michael myers in questo film di joe chapelle diventa babbo ma non solo fa un figlio con sua nipote gemiloide non so se avete capito fa un figlio con sua nipote gemiloide non ce lo mostrano è come la scena dell'infermiere nel nella resurrezione meno male non ce lo mostrano perché che l'abbia fatto artificialmente che l'abbia fatto proprio carnalmente ma voi avete preso brutti manigoldi michael myers e l'avete fatta ma anche se fosse stata artificiale io mi immagino la scena di michael myers a cui viene prelevato lo sperma cioè io lo so e mi ritorna a gola anche quel che ho mangiato a pranzo mi ero fatto un po di farro con pomodoro e la mozzarella e mi torna a gola tutto ma uno ed il bello è che questo film è passato sotto la lente di ingrandimento avendo circa 12 versioni differenti di script prima di realizzarne una che poi ha avuto due diverse diramazioni perché esiste il film passato al cinema e poi la producer's cut la producer's cut la producer's cut ma nel senso che c'è un gatto che produce perché cut in quel senso io l'ho vista tutte e due perché poi nella bellissima nella bellissima nel bellissimo cofanetto midnight hanno inserito tutto ci hanno messo dentro proprio anche il gatto ecco come si fa a far fare un figliolo a michael myers ma come perché ma per quale motivo ma poi oltre a questo problema no michael myers è l'emblema del male è il male non bisogna spiegare perché 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 è il male non bisogna dare alcuna spiegazione è il male quindi il male è il male non è che mi giustificano il diavolo perché è il male il diavolo è il male basta non voglio sapere il perché qua invece andando contro tutte le idee di john carpenter contro il suo pensiero contro la sua poetica si spiega il perché michael myers crescendo è diventato questo serial killer ma non lo voglio sapere perché poi la spiegazione è talmente brutta che avrei creduto di più veramente se dietro la maschera di ghostface ci fosse stato penny wise sarebbe stato più credibile allora scopriamo che da bambino michael sentiva questi suoni questi suoni questi suoni questi suoni questi suoni che attraverso la figura dell'uomo in nero ma non è un man in black ma quasi insomma lo plasmavano mentalmente c'è un'antica maledizione dei druidi chiamata torn torn preferivo ci fosse torn senza la n cioè torre con una martellata ammazzasse tutti e quindi lui è diventato cattivo per colpa di questa maledizione dei druidi me lo dici nel sesto capitolo in quello che sarebbe dovuto essere il conclusivo ma per quale motivo negli ultimi film fate sì che queste figure abbiano sempre o figlioli o fratelli o sorelle o mi stuprià mi stuprate tutto quello che c'è stato prima per quale motivo ve lo chiedo cioè però ripeto almeno a livello di carneficina a livello di sangue a livello di violenza a livello anche di scene minimamente più erotiche il sesto si lascia guardare pensate ed è bruttissimo però immaginatevi voi dei film con la trama migliore come il quarto e il quinto cosa sono un film come halloween la resurrezione com'è se io preferisco halloween 6 con tutti questi difetti certo fra halloween 6 e halloween 4 e halloween 5 e halloween la resurrezione la differenza è come non lo so sbattere il mignolo in un mobile o accendersi un fiammifero dietro l'orecchio è la stessa cosa però forse con qualcosina senti meno male ecco questo film che ora metto sesto ma se mi svegliassi potrei domani un po più arrabbiato lo potrei mettere ultimo insomma che ora metto volevo dire decimo sesto è il non vedete vado nel pallone mentre ne parlo perché allora halloween e halloween kills di david gordon green a me erano piaciuti vi ricorderete ne ho parlato sul canale in recensioni approfondite ero molto curioso di vedere halloween hands che è uscito nel 2022 che rappresentava proprio la fine della saga io questo film lo inserisco al nono posto perché la delusione è stata cosciente io non so cosa gli sia preso al regista in questione che da poco ci ha deliziati con l'esorcista il credente ovviamente sono ironico perché è uno dei film più brutti che mente umana potesse mai concepire con halloween hands e lo dico mentre ci sono i muratori fuori a sistemare insomma e le case qua di fronte con halloween hands con halloween hands si prende tutto quello che raccontava di ferocemente politico d'inchiesta in halloween kills e si manda a quel paese basterebbe dire una cosa in halloween kills ci dicevano che era sbagliato farsi giustizia da soli che non avrebbe portato a niente la giustizia sommaria in halloween hands come se quel finale non fosse mai esistito come se michael myers non si fosse mai rialzato uccidendo tutti si prende e si butta nel tritatutto che neanche nei video di tiktok io questo l'ho detto anche nella recensione avete presente quando scorrete prima di dormire i video su tiktok c'era un periodo in cui andavano di moda quelli in cui si prendeva qualsiasi cosa e si buttava nel tritatutto per vedere come il tritatutto riusciva a distruggere quel che ci buttavi dentro e qua uguale ci si butta michael myers addirittura lo tirano su tutti se lo passano di mano in mano allora non che non lo puoi fare ma vai in maniera proprio assurda contro a quello che mi insegnavi nel film precedente ma poi mi dici che michael myers è la rappresentazione assoluta del male non può morire e me lo uccidi perché nel film precedente deve sopravvivere qua no è la rappresentazione del male sembrava che tu david gordon green stessi onorando il pensiero di john carpenter e lo onori rovinando tutto nell'ultimo capitolo che sembra girato di domenica in fretta e furia con la mano destra non lo so cioè veramente mentre la sinistra si scaccolava io non lo so cioè è proprio boh e questo è uno dei problemi più grossi quindi certi temi si trattano ma poi perdono di valore nel film successivo quindi tutto ciò che di allegorico di feroce di metaforico c'era in halloween kills qua va a donne di facili costume a donne di facili costumi poi vogliamo parlare del tema dell'ereditarietà del male buttato via era bello vedere che dopo michael myers altre persone potessero prendere il suo posto accettavo anche di far morire pensate un po michael myers ma che il suo spirito restasse integro perché tu puoi scalfire la confezione ma il che c'è dentro resta quindi magari lo spirito si orientava verso un'altra persona immaginatevi se halloween hence fosse terminato con un altro bambino in un'altra casa con un altro piano sequenza in soggettiva insomma un altro bambino pronta ad uccidere la sorella fosse finito così halloween avrei detto vedi michael è morto ma il suo spirito maligno no è una catena che si alimenterà sempre perché come esiste il bene esiste il male ed invece cioè esiste la rabbia esiste la rassegnazione del pubblico che magari ha apprezzato i primi due capitoli e che si ritrova a vedere halloween hence che è la fine di un pensiero coerente più che la fine di un'epopea come quella di michael myers quindi non è certo orribile come halloween 4 5 6 la resurrezione perché perlomeno david gordon green a livello tecnico qualcosa riesce anche a fare ma non basta la tecnica serve molto di più quindi io al nono posto ci metto di gran lunga halloween hence all'ottavo posto inserisco halloween vent'anni dopo del 1998 pellicola che riparte dalla fine del primo senza tenere in considerazione tutto ciò che c'è stato successivamente come poi farà david gordon green con il suo halloween il problema è che anche questa pellicola non risulta soddisfacente dietro la macchina da presa troviamo steve miner che già aveva diretto venerdì 13 parte seconda e parte terza due film di mestiere due film sicuramente riusciti ma anch'essi niente di che ne ho parlato nella retrospettiva ne ho parlato nella classifica ma rispetto halloween vent'anni dopo sono dei capolavori perché innanzitutto se il primo scream capolavoro omaggiava halloween di john carpenter altro capolavoro qua halloween vent'anni dopo vorrebbe fare la stessa cosa omaggiando scream ma non ci riesce il tutto sembra raffazzonato posticcio sembra una parodia si cerca di far assomigliare michael myers a ghostface ma più che a michael myers anche guardandolo in faccia esteticamente più che a ghostface scusate michael myers assomiglia a gerry calà quando fa la pubblicità del cantatù perché veramente guardate la vi ricordate la foto di michael myers che guarda dall'oblò dentro guardate veramente se ci fosse stato jerry calà a cantare maracaibo saluto jerry calà sarebbe stato un capolavoro quindi allo in vent'anni dopo dall'inizio alla fine tenta di scimmiottare scream non ci riesce addirittura si prendono estratti dalla colonna sonora del capolavoro di west clave ne si rimettono qua cioè ma ve lo giuro non è una colonna sonora che si rifà ad un certo punto si prende proprio un estratto da scream e si butta qua dentro torna loristrode sì questo può far piacere ma il tutto è talmente blando anche a livello di trama a livello di messa in scena steve miner si vede che un po di mano ce l'ha ma non è niente di che cioè voi immaginatevi di vedere il film che si ricollega al capolavoro del 78 e vedere halloween vent'anni dopo non aiuta a restare sorpresi non aiuta a restare appassionati minimamente soddisfatti è un film che tu guardi e cinque minuti dopo ti dimentichi a livello di violenza questo michael myers utilizza il coltello c'è proprio la scena in cui resta bloccato e inizia a muovere la mano come se fosse ghostface ma è un film che dura neanche un'ora e venti e vi giuro celebriamo così michael myers boh contenti voi per me halloween halloween vent'anni dopo è un altro film non riuscito sicuramente non orribile questo è un film mediocre tu lo puoi anche guardare dopo dieci minuti te ne sei dimenticato i film proprio non riusciti sono altri ma senz'altro è insufficiente vi tranquillizzo forse questa cosa vi dispiacerà perché vi facevo divertire ma con il settimo posto sono finiti per me i film insufficienti quindi voglio inserire halloween 2 il signore della morte che è un film diretto da rick rosenthal lo stesso del pessimo halloween la resurrezione che almeno in quegli anni era più talentuoso è riuscito a dirigere un sequel dignitoso che si svolge in un ospedale le atmosfere che crea le sequenze horror sono molto più violenti più violente del precedente ma proprio anche questo clima notturno l'ansia che si riesce a creare attorno alla protagonista una loristrode sopravvissuta tutto scorre bene c'è la scena famosa della ragazza nuda nella vasca che viene uccisa no con l'infermiere è un film dove questi momenti più oscuri prendono il sopravvento poi a me ispirano sempre le pellicole che si svolgono in ospedali in ospedali psichiatrici quindi in questi padiglioni molto lunghi dove ritrovarsi a camminare dove ritrovarsi a scappare da da assassini da fantasmi e di da chi più ne ha più ne metta c'è il colpo di scena che loristrode è la sorella di michael myers che per me non è affatto da buttar via anzi il signore della morte non è certo un grande film ma è un buon prodotto che per me pecca nel finale uccidendo michael perché se noi guardiamo il signore della morte michael myers è morto perché poi è vero che lo faranno tornare nella saga ma lì per lì avevano scelto di farlo morire cioè far morire la rappresentazione del male è poco carino nei confronti di john carpenter che ha avuto un'idea e così facendo si disintegra perché michael myers come vi ho già detto non è un assassino qualunque proprio la rappresentazione ultraterrena fisica del male puro quindi quando alla fine noi spettatori percepiamo che in quell'incendio è morto possiamo pensare ma come poi a qualcuno può andar bene ad altri no ma visto che il primo non aveva assolutamente bisogno di seguiti perché lui è sparito e chissà dov'è la notte delle streghe lui può essere ovunque il male ovunque hai voluto fare un seguito rispetta le idee del protagonista della creazione di questa storia cioè john carpenter oppure oppure fammi un remake come ha fatto rob zombie ma nel complesso il signore della morte è un film che riguardo sempre volentieri e che secondo me si merita sia per messa in scena sia per trama sia per interpretazioni si merita un settimo posto dignitosissimo al sesto posto halloween di david gordon green film del 2018 che come aveva già provato a fare halloween 20 anni dopo si ricollega alla fine di halloween la notte delle streghe senza tenere in considerazione tutte le pellicole successive da tanti è stato criticato per me è un bellissimo film ogni volta che lo rivedo provo ansia provo timore riesce a spaventarmi ci possono essere delle imperfezioni assolutamente sì ma ci sono anche delle scene che secondo me sono assolutamente meravigliose pensiamo a quella in cui michael myers spietato cattivissimo con questa maschera rovinata non riesce ad uccidere il neonato anche lì molte critiche che ci mancherebbe rispetto ma non condivido se michael uccide tutti se michael è il male non può tirarsi indietro di fronte ad un neonato ma come ragazzi pensate anche metaforicamente allegoricamente cosa significa quella scena il neonato è la rappresentazione del bene puro come lui ha il male puro il neonato è una vittima innocente il neonato è semplicemente la rappresentazione della purezza non è macchiato da nessun peccato è puro quindi il male ha paura della purezza uccide tutti ma il bene beh c'è ovviamente quando si contrappone al male quando tu trovi il puro anche anche il male indietreggia se ne va quindi per me proprio a livello di sottotesto quella scena lì è una scena che fa il film praticamente poi c'è tanta violenza ci sono dei personaggi protagonisti i nostri ragazzi che conosceremo assolutamente caratterizzati certo non aspettiamoci una caratterizzazione da film di aaron sorkin ma nemmeno un film dove i personaggi si dimenticano come tutti quei personaggi che abbiamo visto in halloween 4 in halloween 5 in halloween 6 o quelli che ti ricordi te li ricordi solo perché sono scritti malissimo quindi halloween è un film che sa omaggiare la poetica di john carpenter ma sa anche rinnovare quel che ha fatto john carpenter sa sicuramente rispettare il suo volere per questo resto basito quando so dove è andato a parare david gordon green ma se penso anche alla scena in cui si va a intervistare michael myers senza maschera no dove è rinchiuso nell'ospedale psichiatrico e lo vediamo di profilo come si gioca con la musica la storica colonna sonora che ritorna riarrangiata da john carpenter come si gioca con la fotografia come sono belle le sequenze di omicidio le scene nella notte cioè halloween di david gordon green anche a livello di ricostruzione degli scenari dei tempi per me è un film assolutamente sottovalutato e che merita di essere riscoperto peccato che con hans al quinto posto voglio mettere halloween kills sempre di david gordon green uscito nelle sale nel 2021 se il capitolo precedente lo avevo apprezzato questo proprio mi ha lasciato a bocca aperta perché oltre ad essere feroce cattivo oltre ad avere questo graffio crudele che quasi ricorda il pensiero di rob zombie sul personaggio di michael myers ma senza tradire la poetica carpenteriana in questa pellicola c'è un sottotesto politico ci sono dei momenti metaforici allegorici che ci fanno riflettere su tantissime cose pensiamo che ha anticipato l'attacco al campidoglio che parla di persone figlie del pensiero di trump che pensano che facendosi giustizia sommaria tutto possa essere risolto ed invece non è così però se ci rendiamo conto che effettivamente certe cose similari sono accadute nella realtà se pensiamo a questi personaggi che non riuscendo a scovare michael myers puntano il dito contro un povero pazzo e quando si rendono conto che lui in realtà è innocente non è che si tirano indietro perché ormai hanno trovato il capro espiatorio è un po come quando le stesse persone giudicano giudicano una persona straniera e non si limitano a condannare essa ma tutte l'importante è che anche le altre siano straniere quindi bisogna fare di tutta l'erba un fascio come accade in questo film che politicamente esprime dei concetti ferocemente veri è un film dove anche la messa in scena è cruda è uno dei migliori slasher degli ultimi anni è proprio un film dove anche la fotografia la ricostruzione degli scenari dell'epoca come ci si ricollega bene alla fine del film degli anni 70 ma anche se pensiamo all'attore che interpreta il compianto dottor lumis donald plaisance david gordon green qua o ha avuto una grande botta di fortuna o adesso ha preso non lo so delle droghe e non riesce più a dirigere perché io non lo so come possa passare da halloween kills all'esorcista il credente sì sicuramente anche halloween kills può avere dei difetti delle sbavature ma ce ne fossero di film così c'è anche solo il finale in cui michael myers si risveglia e uccide tutti la morale che il film vuole lasciare il concetto del male che non si può sconfiggere e che certamente non puoi contrastare attraverso la giustizia privata cioè è proprio il film che non mi sarei aspettato di vedere e che mi ha sorpreso che è stato bocciatissimo e che per me è bellissimo per quanto politico per quanto intelligente ma anche interessante se uno lo guarda senza pensare ai sottotesti è proprio di uno slasher come dio comanda al quarto posto però voglio mettere un film bistrattato da troppi halloween 3 il signore della notte di tommy lee wallace dovete sapere che inizialmente non si era pensato ad una saga con michael myers bensì a tanti film ambientati per halloween con protagonisti diversi tant'è che con halloween 3 han provato a mettere in pratica questa cosa non ha riscontrato un buon successo di pubblico e di critica e quindi sono subito tornati a riprendere dal secchio michael myers morto nel secondo con il pessimo halloween 4 ma è un peccato perché halloween 3 è un film che non solo diverte che non solo incute timore spaventa io ancora ho il jingle che mi risuona nell'orecchio nelle orecchie è un film che proprio come halloween kills ha dei sottotesti politici è una critica alle multinazionali poi certo è un horror che va ad abbracciarsi al fantasy all'avventura al thriller quasi in certi momenti allo spionistico bisogna cercare di capire cos'è successo bisogna scovare cosa sta accadendo a questi bambini che rischiano di morire perché perché si mettono queste maschere bellissime fra l'altro io ogni volta che vedo halloween 3 signore della notte ho voglia di comprarle ma queste maschere la notte di halloween secondo il credo di queste persone schizzate fuori di testa queste maschere dovrebbero uccidere tutti i bambini che si riuniscono davanti alla televisione per festeggiare la notte delle streghe il finale in cui scopriamo che c'è una pietra sacrificale rubata stonehenge scopriamo che ci sono dei chip insomma che tutto questo meccanismo porterà alla morte dei bambini di fronte alla televisione in questa rassegna proiettata durante la notte di halloween con il chip che si attiverà causando la morte di ognuno di loro cioè i genitori che cercano di mettersi in contatto con le stazioni televisive non mandate in onda non mandate in onda non mandate in onda ed invece sembra che purtroppo un emittente televisiva voglia fare come vuole quindi non sappiamo noi pensiamo che magari non venga mandato in onda niente o forse si è come la trottola di inception ogni spettatore può pensare al finale che vuole ma è un film che si può vedere come vi dicevo per halloween kills anche senza riflettere sui sottotesti è una pellicola che diverte è una pellicola che può spaventare ma anche esteticamente come sono belle le maschere quel jingle che tormenta il momento in cui ci sono le prove generali fra virgolette con il bambino che no a cui escono gli insetti dalla bocca la donna a cui esplode la testa con il raggio cioè ci sono dei momenti in questo film veramente molto anche espliciti a livello di messa in scena ci sono questi effetti prostetici bellissimi quando ancora si utilizzavano e non era al 90 per cento tutto digitale quindi io halloween 3 il signore della notte lo consiglio ma proprio perché ne parlano tutti talmente male che per me molte persone hanno anche forse un ricordo diverso si sono fatte influenzare non sanno quanto questo film in realtà riesce a divertire riesce ad appassionare riesce a coinvolgere riesce a regalarci comunque una storia intelligente e interessante quindi rispolverate halloween 3 il signore della notte e anzi fatemi sapere se poi riuscirete a ridimensionarlo magari a rivalutarlo oppure se continuerete a distruggerlo perché per me ce ne fossero di film come halloween 3 anche oggi film di serie b ma col cuore di serie a film di genere altro che l'esorcismo di anna grace jack in the box e la mi fava a riposo ecco guardatevi halloween 3 il signore della notte siamo arrivati alla terza posizione medaglia di bronzo squillino le trombe per halloween 2 del 2009 del grande rob zombie è vero che sono sempre indeciso fra questo e halloween the beginning però questa volta ho scelto di metterlo al terzo posto però vi posso dire in totale onestà che non sfigurerebbe nemmeno al secondo halloween 2 distinto mi verrebbe da considerarlo quasi un capolavoro perché rob zombie come poi spiegherò meglio nel momento in cui parlerò di halloween the beginning rob zombie ha scelto da autore di fare il suo film iniziando da capo quindi non ha portato avanti la saga di john carpenter ha diretto un rifacimento ma che non fosse la copia carbone di quel che già avevamo visto ovviamente restano delle cose però in primis michael myers non è più la rappresentazione del male ecco e questo è già un elemento che a me incuriosisce è un elemento che a me appassiona questa volta michael myers nasce dal bullismo nasce dalla famiglia disfunzionale nasce da una famiglia tossica quindi qua andiamo a distanziarci dal pensiero di carpenter ed è giusto così perché ogni autore può avere la sua idea e quindi in halloween 2 che proprio va a distaccarsi da tutto quel che abbiamo visto precedentemente l'inizio sembra omaggiare halloween il signore della morte di rick rosenthal il secondo capitolo quando invece in realtà è tutto un sogno di lori strode la pellicola si basa su questi legami che si vanno a creare fra michael e lori perché poi anche qua scopriremo che lori come nel film di rosenthal è la sorella di michael myers però poi le similitudini finiscono perché è un film altamente psicologico è un film sicuramente molto introspettivo è un film che analizza la figura di una persona malata come michael myers che alla ricerca della sorella e che sulla strada uccide tutti nel modo più barbaro e truce intanto perdonatemi se sentite trapanare fuori perché ci sono dei lavori in corso non è michael myers in halloween 2 torna anche daniel harris il personaggio che interpreta l'amica di lori strode lori strode dopo anni che sono passati dal primo capitolo due nella director's cut un anno nella versione cinematografica vive a casa di della sua amica e bisogna dire che il finale è sconvolgente quando ormai le visioni hanno preso il sopravvento quando michael myers viene ucciso dalla stessa viene prima colpito dalla stessa lori strode poi ci sono i poliziotti fuori che gli sparano dalla finestra lei che esce con la maschera da clown con la maschera di michael myers e quindi tu pensi cavolo c'è l'ereditarietà del male dopo essere stata tartassata per anni dopo aver rovinato la sua vita adesso lei è diventata l'emblema di quel male come se fosse una tara ereditaria e poi successivamente la troviamo all'ospedale psichiatrico immersa ormai nei suoi deliri con il cavallo bianco la madre la rappresentazione di michael myers bambino è un film meraviglioso è un film dove l'identità autoriale prende il sopravvento non si cerca di scopiazzare quel che c'è stato prima rob zombie fa un film talmente cattivo talmente violento che certe scene realmente possono anche turbare il pubblico cioè ci sono dei momenti così truci ci sono dei momenti così crudi che ogni volta io li guardo e penso peccato che rob zombie non sia riuscito a fare il suo terzo capitolo perché penso proprio che sarebbe stato meraviglioso io avrei voluto il terzo capitolo conclusivo certo è vero che tante cose si chiudono però immaginare lori strode in quello stato se da un lato può essere una degna conclusione dall'altro lato mi fa anche pensare potrebbe esserci di più il film al box office non è andato bene come si sperava è comunque lo ripeto come ho detto prima un grandissimo film quindi medaglia di bronzo per halloween 2 del 2009 che volevo vedere al cinema per ovvie ragioni non riuscì ad entrare per la mia età ma che vi consiglio assolutamente dove c'è anche un grandissimo dottor lumis interpretato da malcolm mcdolli cioè l'alex de large di arancia meccanica forse ho detto troppo mentre poco fa parlavo di halloween 2 però effettivamente dovevo spiegare come rob zombie si è approcciato al progetto medaglia d'argento per halloween the beginning qui si lo dico un capolavoro all'altezza di halloween di john carpenter anzi ci sono i periodi in cui preferisco il remake all'originale solo che per rispetto al maestro carpenter c'è ancora tempo per mantenere in prima posizione halloween del 1978 prima di prima di modificare questa mia scelta tanto l'halloween di rob zombie resta lo stesso straordinario qua come vi dicevo prima con coraggio si sceglie di distanziarsi da quel che aveva creato john carpenter ovviamente omaggiandolo ovviamente mantenendone la poetica però poi rob zombie ci mette il suo sceglie di non rendere michael myers rappresentazione del male bensì ragazzo bullizzato quanto sono belli i momenti ma anche inquietanti di michael myers bambino che tortura gli animali quando viene bullizzato a scuola e quando se la rifà con i propri bulli un michael myers pazzesco interpretato da tyler main cioè uno dei michael myers migliori di sempre il rapporto con lori strode il rapporto con gli altri personaggi il dottor lumis se donald plaisance era pazzesco malcolm mcdowley è anche qua incredibile che fine farà in halloween 2 qua invece riesce a salvarsi la vita ma è una pellicola dove le musiche di rob zombie stesso dove tutti i personaggi non li ho citati nel 2 ma non si può non parlare di sherry moon cioè la moglie proprio di rob zombie che interpreta debora myers sono molto più importanti i genitori di michael in questo film e poi anche nel 2 il cavallo bianco la madre sherry moon bellissima sherry moon inquietante cioè i film di rob zombie sono sempre caratterizzati da questa sporcizia da questa cattiveria da questa violenza anche le scenografie i costumi la fotografia cioè qua sì che la maschera di michael myers a dignità qua sì che il personaggio a dignità se voi mettete a paragone halloween the beginning che io metto in seconda posizione halloween 4 che io metto in tredicesima posizione è come veramente mettere a paragone che ne so da un lato la coca cola più dissetante del mondo e dall'altro lato acqua di pozzanghera è identico perché effettivamente il paragone che ho fatto calza a pennello per descrivere come si omaggia michael myers in halloween the beginning e come si distrugga in halloween 4 il ritorno di michael myers e come vi ho già detto michael myers sembra di più lupo alberto sotto steroidi comunque il mio parere su halloween the beginning non può che essere entusiasta è un film straordinario a cui anche david gordon green si è rifatto in certe atmosfere perché l'halloween del 2018 l'halloween kills del 2021 soprattutto sono due pellicole che omaggiano comunque ricalcano questo stile in modo meno violento halloween kills ci si avvicina di più ma la violenza di halloween the beginning e halloween 2 è fuori scala è fuori misura anche qua daniel harris che rivediamo qui sì che ha dignità altro che la sua jamie lloyd in quegli altri capitoli marci mi dispiace non aver visto un terzo capitolo però che vi devo dire è andata così e quindi teniamoci questi due filmoni e siamo arrivati al primo posto al primo posto di questa classifica con cui ancora una volta vi auguro buon halloween poi mi dite come festeggiate fatemelo sapere qua sotto halloween beh parlare di un capolavoro come halloween la notte delle streghe del 78 sarebbe come parlare del primo nightmare del primo non aprite quella porta del primo scream sono film che hanno fatto la storia del cinema non solo horror ma del cinema in toto halloween la notte delle streghe ha dato vita allo slasher per come lo conosciamo sì c'erano già stati spruzzi di slasher grazie a mario bava grazie ad altri registi che in quegli stessi anni anche sergio martino se vogliamo anche dario argento però 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 non esisteva ancora la terminologia slasher che poi è andata sempre più a ingrandirsi espandersi con l'immaginazione dell'assassino con una maschera con il coltello che si poteva vedere anche in più film quindi ha pian piano anche dato vita delle regole il genere slasher le stesse regole che vengono parodizzate in scream le regole che tuttora hanno un suo perché che tuttora esistono anche se nove volte su dieci gli horror slasher del 2023 sono orribili però ecco si prova ancora a farne nel 1978 halloween la notte delle streghe è stato come un fulmine a ciel sereno è un film minimalista un film piccolo piccolo ma con un cuore grande grande che ti fa capire come con poco si riesce a spaventare lori strode gemili cartis la regina dell'urlo scream queen noi la vediamo eppure la trama è tra le più semplici del mondo cioè vediamo la protagonista che deve tenere la notte di halloween dei bambini perché fa la babysitter e nella casa accanto sembra che qualcosa purtroppo di brutto di malsano stia succedendo cosa beh c'è un assassino con la maschera bianca per citare anche casey baker che va in giro ad uccidere le babysitter quindi michael myers che con nemmeno troppa cattiveria perché nel film del 78 non c'è violenza esplicita e non se ne sente neanche il bisogno è arrivata dopo la accettiamo la desideriamo nei film di rob zombie in quelli di david gordon green ma nel 78 la paura si costruisce anche attraverso la messa in scena attraverso il buio attraverso la musica attraverso la fotografia attraverso i quei timori che le ragazzine dei tempi avevano ma non è che chi fa sesso muore c'era la leggenda no solo chi non fa sesso sopravvive ed infatti la vergine è quella che sopravvive loris trude però poi ecco quel film presenza presenta delle scene iconiche i titoli di inizio fra i più belli di sempre tatan 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 cioè la colonna sonora di halloween la notte delle streghe che molte persone confondono con quella di profondo rosso perché poi è tutto un omaggiarsi continuo cioè è straordinaria la zucca che compare e michael myers le scene in soggettiva cioè oggi per spaventare c'è bisogno del jumpscare che una volta funziona 320 no lì michael myers che camminava la soggettiva del suo corpo l'inizio il capolavoro lui che uccide la sorella come la uccide con un piano sequenza in soggettiva cioè con la maschera non c'è bisogno di altro con poco si faceva tanto tutto minimalista tutti effetti prostetici quella maschera che nella sua semplicità come vi ho detto fino ad adesso risulta una delle più belle della storia del cinema horror che si rifaceva il capitano kirk di star trek che poi è diventata invece iconica come la maschera di michael myers quindi e che vi posso dire al primo posto deve per forza ora come ora stare halloween la notte delle streghe poi possiamo anche invertire con halloween the beginning ma per ora teniamo halloween la notte delle streghe ma vi faccio capire che per me rob zombie può essere all'altezza di carpenter poi quando tra vent'anni ne riparleremo cercheremo di capire come anche i futuri lavori di zombie possono essere stati studiati possono essere stati accolti dalla critica dal pubblico però se io penso a rob zombie ragazzi penso alla no a halloween the beginning halloween 2 penso porca miseria alle streghe di salem che è un film che a me terrorizza un altro capolavoro penso a delle pellicole meravigliose la casa del diavolo la casa dei millecorpi quindi vabbè ragazzi belli avevo fatto la classifica di nightmare la classifica di venerdì 13 poteva mancare la classifica di halloween proprio in questo giorno fra l'altro suonano anche alla porta quindi è arrivato il momento di salutarvi vi mando un grosso bacio vi mando un grosso abbraccio ovviamente non sono stato qua a recensire i film in lungo e in largo perché di tutte queste pellicole trovereste la recensione nella mia retrospettiva parliamo di horror quindi su youtube cercate paolo innocenti halloween vi verrebbero fuori tanti di quei video e parlerei minuziosamente di tutti questi film quindi guardatevi quelle recensioni perché troverete veramente pam per i vostri denti vi abbraccio vi ricordo che nelle info potreste trovare tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social per abbonarvi al canale se deciderete di abbonarvi riceverete poi in cambio tanti contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana sono molto curioso di leggere la vostra classifica scrivete scrivete qua sotto e niente ancora buon halloween ciao